Salve a tutti e bentornati a LifeX, un podcast di chicche tra scienza e pratica per ottimizzare la propria vita. Un saluto da Vincenzo e bentrovati. Un saluto da Manuel. Allora, la questione di cui parleremo oggi riguarda principalmente le proteine. Il titolo della puntata è le proteine in polvere, chimica da bere. Il punto per noi è molto molto importante in quanto le proteine stanno al centro di numerosissimi dibattiti, sia in quanto macronutriente e sia in quanto semplice, tra virgolette, semplice integratore. Si sente dire tantissimo le proteine fanno male o le proteine fanno venire il cancro, le proteine qui, le proteine lì. Sono state per lunghissimo tempo una sorta di nemico comune riguardo la campagna di sensibilizzazione alimentare. Poi ovviamente ci sono stati vari focus, parliamo di proteine del latte, parliamo di proteine della carne. Comunque il concetto di proteina nell'ambito stretto dell'alimentazione è stato molto controverso e più sono passati i mezzi di informazione, più sono cambiati i mezzi di informazione, più paradossalmente c'è stata un'enorme, enorme confusione per quanto riguarda questo argomento. Confusione che in parte è stata alimentata da una mancanza di chiarezza a livello di ricerca, ma questo diciamo che è abbastanza... è una giustificazione che secondo me ci sta, nel senso che quando parliamo di ricerca nella scienza dell'alimentazione, nella nutrizione, parliamo di una scienza che è molto molto giovane e quindi ci sta che effettivamente alcune cose che magari si credevano negli anni 80, anni 90, sono state rimodificate. Il problema qual è? Approfondite più che modificate, alcune nozioni sono state veramente cambiate completamente, altre sono state aggiustate per così dire. Il punto qual è? Che in un momento come dicevo prima, in cui l'informazione ha raggiunto una facilità di diffusione estremamente elevata, è molto facile che una nozione diventi virale, ovviamente quando si vuole demonizzare qualcosa è molto molto semplice farlo e le proteine ne hanno subite tante di queste demonizzazioni periodiche. Ora, questa puntata non deve essere un'apologia delle proteine, ma semplicemente una spiegazione, un nostro punto di vista. In particolare mi preme citare il discorso dei primi studi. Ci sono stati alcuni studi su cui poi è stata costruita tutta la prima campagna diffamatoria in ambito di proteine e riguardano un dosaggio medio-alto di proteine somministrato a dei soggetti particolari che hanno dimostrato creare delle problematiche renali. Da lì, problematica ai reni, problematica al fegato, le proteine fanno male e così via. In realtà quei primi studi furono fatti specificamente su soggetti che avevano già delle problematiche renali. Ed è per questo che un carico di proteine ulteriore, un carico di proteine, una quantità di proteine, una normoproteica, una leggera iperproteica, ha creato, creava dei problemi. E da lì in poi è stato un susseguirsi di luoghi comuni che si sono via via astratti. Quindi è stata fatta inconsciamente l'associazione del fanno male ai malati, fanno male anche ai sani. Cosa che in realtà è abbastanza diversa. Certo, è il tipico errore che si fa quando si parla di nutrizione e medicina, in generale salute, e poi si cerca di calare la statistica, quello che viene dagli studi scientifici, si cerca di calarlo nel pratico, ma senza metterci i dovuti puntini sulle i, senza andare a capire come in quella del contesto, c'erano dei dettagli che a volte fanno cambiare tantissimo, fanno cambiare tutto. Cioè tu hai parlato appunto di chi si avvia verso già delle problematiche ad esempio renali e quindi è ovvio che in quel caso bisogna stare più attenti. E non significa che prendo un grammo di proteina e muoio sul colpo. No, non è così. Significa che devo stare più attento appunto. Questo poi ovviamente è un discorso che si collega a una marea di altri, diciamo, dogmi e falsi miti che ovviamente nel corso di LifeX andiamo un pochino a sgretolare che un po' il progetto nasce appunto anche per questo, far capitare un approccio che sia scientifico, ma scientifico trattato in maniera razionale, logica, con buon senso, che poi va a calarsi nel pratico con tutte le sue sfaccettature. Nel parlare di proteine, quindi rimaniamo sull'argomento proteina per capire un attimino qual è, non dico la verità, perché la verità assoluta, scusate il cliché, ma nessuno ce l'ha, però andrei a usare quello che è il nostro buon senso per cercare di capire come dobbiamo comportarci. Quando parliamo di proteina, fondamentalmente in ambito di benessere, fitness, di salute, poi ci accostiamo quasi necessariamente alla proteina come integratore, cioè non solo parliamo di carne, pesce, eccetera, ma andiamo a toccare quasi sempre l'argomento proteina come integratore che secondo me e immagino anche secondo te, Manuel, non è più da considerarsi proprio un vero, proprio un supplemento, ma un sostitutivo della quantità proteica che magari non riusciamo a raggiungere con la dieta, quindi io non riesco a mangiarmi tot di carne o di alimento proteico e aumento un po' le proteine tramite appunto proteine in polvere. Proteine in polvere che sono sempre più utilizzate anche in campo appunto del benessere, però c'è sempre un po' questa difficoltà nel comprendere di cosa si tratta quando si parla di proteine, perché ancora si pensa che la proteina, magari il solito sbobbone per i palestrati o perché bisogna fare pasti sostitutivi, quindi per dimagrire, eccetera, 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 in realtà non è affatto così. Non è affatto così perché ci sono degli effetti, noi abbiamo parlato molto di stimolo, quindi ci sono degli effetti precisi e particolari che le proteine e in particolare le proteine in polvere di un certo tipo vanno a fare interno all'organismo. Un attimino di panoramica va fatta su quelle che sono le varie proteine in polvere che potreste trovarvi di fronte. Proteine in polvere ci sono di tipo isolato, concentrato, idrolizzato, quando parliamo di proteine estratte dal latte e poi ci sono tutte le varie proteine vegetariane, vegane, delle uova, eccetera, eccetera. Fondamentalmente quello che ci si chiede è quando utilizzare l'una, quando utilizzare l'altra, è una cosa che andremo un attimo a capire all'interno di questo podcast. Un'altra cosa importante però riguarda oggi più che mai, è interessante questo argomento, riguarda la qualità della fonte della proteina, cioè ci sono persone che magari non comprano un certo marchio, si rivolgono ad un altro marchio perché magari pensano sulla base di non si sa cosa, perché effettivamente è così, ad ampio spettro non possiamo sapere bene quello che c'è dietro, però vanno a scegliere una certa proteina piuttosto che un'altra. Il nostro consiglio non va a dire scegliete questa o quest'altra sulla base di fantomatici dati che in realtà non esistono, ma più che altro è un consiglio di buon senso molto pratico, cioè guardate se c'è, se se ne parla molto ma in termini ufficiali, cioè certificazioni che possono esserci, certificazioni su anche database di siti che fanno questo per mestiere, laboratori che per mestiere prendono campioni di proteine e vanno a capire se effettivamente le etichette corrispondono a, oppure se ci sono particolari allergeni, tossine e compagnia bella. L'altra cosa è capire se quella proteina effettivamente è sul mercato da tanto tempo e i feedback che la gente sta dando non sono male, non possono essere mai al 100% ottimi, però perlomeno la maggior parte devono essere sulla fascia buona barra ottima. Detto questo, secondo me è importante, questo chiedo a te Manuel, capire un attimino cosa possiamo farci con queste proteine in polvere a livello proprio di quello che è il core del nostro progetto LifeX, cioè lo stimolo che andiamo a dare a questo nostro corpo con proteine, proteine in generale, proteine in polvere in particolare. Sì, perché poi alla fine quello che hai detto è secondo me sacrosanto, ora magari ci stiamo spostando più sulla concezione di proteina come proteina in polvere, che secondo me può essere anche più utile nell'atto pratico, perché poi spostarsi nel campo puro del proteine fanno male come macronutriente diventa un pochino complicato, però sicuramente a livello di integrazione possiamo valutare svariate cose, in particolare il concepirle come tra virgolette un semplice sostituto è già un passo avanti, che forse magari è un po' più diffuso rispetto a come era fino a qualche anno fa, cioè magari chi ha bisogno effettivamente per voi condizioni particolari a livello sportivo, piuttosto che condizioni particolari a livello di patologia o condizioni particolari a livello di stile di vita, magari ha bisogno di una quota proteica di un certo tipo, ma per il tipo di lavoro che fa, mi viene in mente un manager, piuttosto che un... perché io ci lavoro insieme e mi tornano in mente queste tipologie di pazienti, i poker player professionisti, magari non hanno tempo, non hanno modo di consumare sempre alimenti soliti e quindi sì, la sostituzione con proteine risulta molto comoda. Oltre a questa visione più semplicistica, esiste anche un approccio più funzionale alla visione dell'integrazione di proteine, perché la proteina, a meno che non sia un prodotto estremamente purificato, quindi le idrolizzate ad esempio, o prodotti specificamente purificati, contengono anche tutta una serie di altre molecole, di altri componenti, lattoferrine, lactaderine, latto globuline, sono componenti che hanno un'efficacia direttamente sul sistema immunitario, quindi hanno un ruolo anche importante a livello di supporto vero e proprio, un pochino di... adesso secondo me parlare di immunostimolazione tramite le proteine in polvere mi sembra un po' fuorviante, è un pochino come dire che prendo un'integrazione di vitamina D perché nel latte di soia c'è la vitamina D addizionata, cioè secondo me è un po' tirata per i capelli come cosa, però sicuramente c'è da dire che hanno delle... se il prodotto è buono, se il prodotto ha una fonte certificata, ha dei certificati stessi che ne attestino la qualità di lavorazione, sicuramente andiamo a parlare di un prodotto che avrà un'efficacia benefica complessiva a livello proprio di stimolo, quello che dicevamo, un conto è mangiare solo proteine, un conto è mangiare proteine che abbiano degli altri componenti che vadano ad avere un effetto sinergico sul nostro corpo. Dico la più semplice, proprio l'esempio più evidente, delle proteine che hanno la lattasi aggiunta, quindi l'enzima che serve a digerire, a rendere più digeribile, o meglio, a rendere digeribile il lattosio, quello è un esempio classico, oppure delle proteine che vengono addizionate con il colostro, quindi un composto immunostimolante, ripeto, sempre nell'ottica, usciamo dall'ottica farmaceutica, perché non stiamo parlando di quello, non stiamo parlando di monoglobuline, però di un supporto effettivo, documentato, che può avere degli effetti quindi funzionali rispetto al semplice macronutriente, cioè non sto mangiando solo un macronutriente, che viene visto appunto se associato al concetto di polvere, no, sto mangiando qualcosa di puramente artificiale, in realtà sto mangiando qualcosa che può avere degli effetti positivi, e riguardo la mia salute generica, quindi è una concezione un pochino più ampia di stimolo, di messaggio che sto inviando al corpo, io mi ricollego anche a quel bellissimo concetto che è la medicina di segnale del dottor Speciani, quindi secondo me questo concetto è una visione un po' più olistica, e che va a travalicare il concetto di alimento chimico, che poi anche lì, cioè, su questo io avrei per esempio da ridire riguardo agli alimenti senza glutine, la cui lista di ingredienti spesso metterebbe paura a chiunque, rispetto a una proteina in polvere, quindi non so se mi sono spinto troppo in là con l'esempio del senza glutine, tu che ne pensi? No, 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 anzi, sei stato anche molto delicato, nel senso che mi viene in mente a me, mi viene in mente sempre l'esempio o della persona che va in palestra, vuole mettere massa muscolare, oppure tipicamente, ma non per fare discriminazione di genere, però tipicamente delle ragazze che tentano di mangiare, sapendo che le proteine sono importanti nell'alimentazione, tentano di mangiare più proteine ma con meno grassi e vanno a prendersi magari qualche carne processatissima, come il petto, la fesa di tacchino, mi conservata, pensando che stanno prendendo proteine vere, quando in realtà stanno prendendo collagene, che è un collagene che ha un valore biologico, se possiamo parlare di valore biologico, però di valore funzionale è appunto estremamente ridotto, cioè mangio quella roba e il mio corpo ci fa poco, a quel punto tanto meglio comprarsi una buona proteina e al posto di quel brutto alimento prendere appunto un po' di proteina per arrivare ad una certa quota proteica. Ti rigiro la domanda, non so se non mi sono spinto troppo in là con questo esempio, però mi sembra che il discorso fosse un po' quello, cioè tanto meglio, e di fatti tu hai detto una cosa molto importante, non è che io mangio le proteine e domani mi passa il raffreddore e quindi il mio sistema immunitario sta funzionando, no? Se tutto, se sono una persona consapevole, sto bene, non faccio lavoro estenuante, non mi distruggo la notte, non vado fuori ogni sera e tutto il resto, quindi ho buona consapevolezza di come si sta al benessere, di come si sta bene, a parità di cose la proteina in polvere, che non vuol dire solo dieta di proteina in polvere, però a parità di cose una quota di proteina in polvere meglio rispetto a solo alimenti. Perché ci sono quei fattori aggiuntivi che ha detto appunto Manuel? C'è un'altra cosa, oltre ai fattori aggiuntivi sul sistema immunitario, le proteine agiscono, qui ritorno un attimino sulla proteina in generale, agiscono proprio appunto come stimolo, come quando diciamo nel punto dei precedenti, vanno ad dare uno stimolo diretto al nostro organismo e non solo sono dei mattoncini che compongono i nostri muscoli, le nostre ossa, eccetera, eccetera, sono qualcosa che se io vado a dare in maniera ben programmata, chi fa l'allenamento sa bene che è bene prendere un po' di proteine dopo aver fatto l'allenamento, perché tutta una serie di motivi, aiuta il muscolo a ripararsi, eccetera, eccetera, però se vado a dare in maniera programmata vado a creare uno stimolo all'interno del mio organismo che tale stimolo è organismo, muoviti a costruire qualcosa, ed è, questo è un argomento molto, che è molto complesso, per quanto cerchiamo di semplificarlo, è veramente molto complesso, perché molti si perdono ancora su quante proteine devo assumere, ne ho prese 100, allora devo arrivare a 120, quindi ne prendo 120, solo perché devono andare a fare qualcosa in termini di bilancio, ho preso questo, ho perso questo, in realtà c'è qualcosa di più, quel qualcosa di più è io prendo un tot di proteine, in un certo momento, ad esempio appunto faccio l'allenamento, oppure chi vuole aumentare un po' l'olio di massa muscolare, chi è un po' in là con l'età e ha maggiori probabilità che stia catabolizzando tessuto magro, assumere un po' più di proteine alla sera è meglio che non distribuirle durante la giornata, quindi già questo è una piccola modifica che si può fare, andare a inserire un po' più di proteine alla sera e magari se non ci si riesce con gli alimenti andare ad aggiungerle, ad aggiungerle tramite integratori che con poco, quindi un bicchiere d'acqua, come bere un bicchiere d'acqua, possono dare uno stimolo aggiuntivo per chi appunto è un po' più in là con l'età, oppure chi sta cercando di aumentare, di massimizzare la sua ritenzione di massa magra, di massa proteica. Guarda, io mi inserisco al volo con un aneddoto, che poi penso che te lo ricorderai anche tu, ti ricordi quando nel libro di Tim Ferriss lui diceva di aver fatto dimagrire il padre semplicemente integrando, cioè semplicemente mangiando 30 grammi al mattino di proteine in polvere come prima cosa? Sì, sì. Secondo me questo ci ritorna benissimo sul discorso, perché alla fine è un po' un intendere, appunto non solo l'effetto in quanto macronutriente, in quanto facilità di assunzione, ma anche proprio come effetto che ha sia a livello di segnale nel resto della giornata, a livello di gusto, a livello di tutto il resto insomma, sia a livello dell'influenza di palatabilità, diciamo così, il cambio della percezione del gusto e quindi il cambio di quello che andrei a cercare durante la giornata. Ovviamente quella, credo, perché poi non è che ci abbiamo mai parlato con lui, però non credo volesse dire mangia 30 grammi di proteine e dimagrisci perché hai mangiato le proteine. Cioè non mi sembra fuori di testa, no? Non sei d'accordo? No, sì, certo, era più un concetto di stimolo, mi sembra che forse anche lui molto legato, cioè il concetto che è scientificamente provato, che la proteina, proprio le whey protein in particolare, le proteine nel sito del latte in polvere, stimolino anche quella che si chiama la mitocondrogenza in maniera proprio diretta, quindi la nostra capacità di ossidare meglio i grassi, quindi utilizzare meglio i nutrienti in generale, quindi secondo me era proprio sul concetto di stimolo a fare qualcosa che si concentrava anche Fenris. Sì, che poi quello lì è il meccanismo che avviene tramite PCG1α, perché è curioso, mi ricordo che era proprio spiegato con quella via di segnale. Comunque adesso non facciamo una digressione, però era un... se no poi iniziamo a parlare in nerd e basta. In biochimichese. Però secondo me era un esempio calzante, anche perché ritornando di nuovo al discorso degli stimoli, esiste poi una condizione abbastanza diffusa, di cui solo... se non sbaglio c'è solo una fonte di informazione, che non voglio citare, però in generale c'è una fonte di informazione che si focalizza molto su questo concetto, che è la sarcopenia funzionale. Dici, usi sempre il termine funzionale. Sì, uso sempre il termine funzionale. Perché la sarcopenia funzionale cos'è? Allora, intanto definiamo la sarcopenia. La sarcopenia è una condizione abbastanza grave, cioè che viene associata poi al concetto di ospedaliero, di ricovero, anche se quello in realtà è ancora più grave, però diciamo che la sarcopenia è inteso come un concetto di perdita di massa muscolare, di solito correlata all'invecchiamento. Il punto è che è correlata all'invecchiamento, la definizione originale di sarcopenia è correlata all'invecchiamento. Il punto è che la maggior parte dei soggetti che non fanno sport non soffrono di sarcopenia clinica, ma soffrono di una carenza di massa magra. Questo, uno perché per l'appunto c'è una carenza, come detto prima, di attività fisica a livello generale. Perché poi magari questo podcast se lo ascolteranno tutti quelli che sono già sportivi, fanno già allenamento e quindi sembra un'assurdità. In realtà c'è un mondo fuori con cui ci relazioniamo, per cui lo sport non è neanche nelle prime dieci priorità. E sia perché statisticamente, questi sono dati facilmente trovabili ovunque, il consumo di proteine non è cresciuto nel tempo, anzi c'è ancora una scarsità piuttosto elevata rispetto a quelli che sono standard, non di sopravvivenza, perché attenzione poi uno, un conto è dire 0,8 grammi pro chilo per la sopravvivenza, un conto è dire quanto mi serve per star bene o ancora meglio. Quanto mi serve per aggiustare una condizione sbagliata? Cioè se io sono arrivato ad avere una carenza di massa magra, devo veramente mangiare solo la quantità che mi serve a mantenere quello che già ho o devo mangiarne una condizione che mi aiuti a svilupparne? Posto che con l'alimentazione da solo non è possibile, però in generale il concetto è quello. Il punto è che una carenza troppo spesso di proteina nell'alimentazione, perché sono poco comode da portare, perché sono poco palatabili rispetto al dolcetto, è associata a una miriade di condizioni come l'insulino resistenza, la sindrome metabolica, associata a patologie anche molto più gravi, ovviamente come l'Alzheimer e il diabete. Secondo me è importante notare come l'Alzheimer stia venendo definito sempre di più come il diabete di tipo 3, quindi un'associazione con una forte componente metabolica. In generale stiamo assistendo a un... io penso sempre all'esame che faccio in studio in ambulatorio della dinamometria, cioè la stretta di mano che è un parametro diretto alla salute muscolare, un parametro che viene usato anche in letteratura ad esempio con i malati di ADS o comunque gli allettati per monitorare l'andamento della massa muscolare, la salute della massa muscolare e la maggior parte di persone completamente insospettabili rispetto alle tabelle stanno tutti sotto e stiamo parlando di una stretta di mano. Ti ricordi quel detto... non so se da te si diceva insomma, però io mi ricordo che il nonno diceva che un uomo si valuta dalla stretta di mano. Sì, sì, certamente. In realtà anche una donna e in realtà come in tutte le cose, quando c'è la leggenda c'è anche il fondo di verità. Ed effettivamente sì, c'è una... questa avversione verso il concetto di proteina, questa... cioè è come se ci avessimo solo il lato eccessivo. Ci abbiano inculcato semplicemente il fatto che troppe proteine fanno male e troppo poche no. Anzi, meno ne mangi meglio è. Sembra quasi... sì, che dovremmo fare un digiuno proteico e basta. Quindi sì, purtroppo la condizione in cui si versa... si versa a livello, dico, comune, spesso è una carenza di massa magra funzionale, ripeto, non è una cosa che si manifesta con allettamenti e quant'altro, che poi è associata con tutta una marea di condizioni più o meno gravi. La domanda che ti faccio io è, secondo te, da dove è nato tutto ciò? Perché? Questa cosa è molto difficile. Io prima di risponderti vorrei mettere una, forse due parentesi. La prima è che forse non si è capito, ma penso che sia molto importante. La cosa bella di tutto questo è che noi siamo qui, parliamo di proteine, proteine in polvere, ma noi non vendiamo integratori, non vendiamo integratori, siamo qui e non abbiamo interessi commerciali per questa cosa. So che parlare è un parola vuota, però uno può verificare tranquillamente in giro online, ormai sulla rete c'è tutto. La seconda cosa si correva al concetto che hai detto riguardo la ricerca, come se fosse una ricerca disperata almeno proteina. In realtà per me vale proprio l'approccio contrario, cioè una persona è proprio tra le prime cose da fare, cioè le persone che sono fuori forma e magari vogliono mettersi a dieta, è la tipica espressione che usiamo per dire vogliono mettermi in forma, dovrebbero pensare come prima cosa all'aumento della proteina, come primissima cosa. Talvolta non serve neanche fare chissà cosa, semplicemente pensare a introdurre un po' più di proteine. Tutto questo ovviamente genera un cambiamento di tutte le abitudini, perché se io devo mangiare un po' più proteine è ovvio che non mi posso fare quattro piatti di pasta e poi non c'è spazio per la proteina, ma penserò che do priorità alla proteina e quindi mangerò meno le altre cose. La pasta contiene proteine? Ah sì esatto! Infatti stavo lì che ho detto aspetta, è sarcasmo? Ok, ho avuto un attimo di terrore. No, a parte gli scherzi, perché si è generato questo caos? Perché c'è ovviamente tutto il discorso di come viene comunicata la materia. Visto che questa materia, la dietetica sostanzialmente non è più sulla bocca di pochi esperti, di professionisti e pochissimi che fanno quella cosa. Non stiamo parlando di costruire un palazzo dove ci vuole un ingegnere che sa dove andrà a mettere le mani, altrimenti i rischi sono veramente enormi. In questo settore si è prima di tutto miscelato, a mio avviso, il benessere con la clinica, quindi la salute intesa come toglierci da una condizione di patologia, che sono due cose diverse, ma c'è stata una miscelanza che non ci ha fatto confondere. In secondo luogo, visto che è diventato sempre un terreno in cui tutti possono effettivamente parlare, c'è sempre più una competizione a dire la cosa più sensazionale e quindi la cosa più sensazionale in genere è quella più polarizzata. Noi avremmo potuto iniziare con un titolo, non lo so, l'ultima proteina che ti uccide, appunto, per dire oddio che cosa è successo, così permettere un pochino di far scalpore, far paura e quindi popolarizzare l'attenzione su qualcosa, cercare di farci concentrare su qualcosa. E quindi penso che sia questo un po' il grande caos, da dove ha avuto origine il caos. Non so se questa cosa la condividi anche tu, oppure l'hai vissuta anche tu, ma per me mi sembra che questa componente sia molto grande in tutto quello che è successo. Io devo dire che aggiungerei un'altra nozione, una nozione che viene da una lettura che feci un sacco di tempo fa e non riesco neanche a ricordarmela, porca miseria, però secondo me è pure molto appropriato, che è il concetto di nemico fluido. Il concetto di nemico fluido significa un nemico che cambia di volta in volta e che viene utilizzato, come dicevi tu, per la polarizzazione dell'attenzione. Pare che abbiamo, se uno guarda i grafici, quelle famose correlazioni, pare che abbiamo sempre di più livelli di obesità crescenti, sovrappeso crescenti e c'è sempre un nemico, cioè una volta il fruttosio, una volta solo proteine, una volta la frutta di per sé, una volta sui carboidrati, poi sui grassi, poi sui nuovi carboidrati. C'è sempre un nemico a cui dare la colpa, c'è sempre qualcosa da eliminare. Se uno mettesse, dividendo lo schermo del computer a metà, abbiamo sul lato sinistro delle slide che cambiano continuamente con le foto del nemico e a destra un grafico che più passa il tempo più comunque continua a salire, non importa il nemico. Quindi in generale devo dire che, secondo me, una parte fa anche il sensazionalismo e la vendita di un prodotto piuttosto che un altro. Non con questo non voglio assolutamente finire nel complottismo, per quanto sto molto attento a misurare le parole in questo momento, si sente, però devo dire che qualcosa di fondo c'è stato, nel senso che poi questa cosa con le proteine, proteine in polvere, proteine e quant'altro, ce la portiamo dietro, ma non so nemmeno più quanti anni. Quindi, devo dire, un'altra cosa, sicuramente una grande parte ce l'ha la comunicazione, ecco, questo sì, una grande parte ce l'ha la comunicazione, un'altra grande parte, secondo me, ce l'hanno le tradizioni, le tradizioni all'italiana. Tradizioni all'italiana che comunque, venendo noi da un'eccellenza culinaria, da una storia di eccellenza culinaria, in parte abbiamo una sorta di repulsione verso quello che è percepito come eccessivamente artificiale, almeno così la riesco a immaginare io. Credo che questo ci abbia un altro grande peso, cioè il fatto che abbiamo un'alimentazione così fortemente, scusatemi, non relata, ma correlata alle nostre tradizioni, è molto impattante nel momento in cui ci troviamo con alimenti nuovi, alimenti strani. Io penso alle proteine in polvere, ma penso alla quinoa, molto difficile da proporre in un piano nutrizionale per chi non è avvezzo. Quindi, in un certo senso, credo che il divario non sia solo comunicativo barra politico, politico commerciale ovviamente, ma anche puramente il tradizionale. Questo secondo me è una risposta che può comprendere tutto quanto, no? Sì, direi sì, per arrivare proprio terra a terra, effettivamente. In Italia, nella parte non so come definire, però tradizionalistica è la cultura del carboidrato e del carboidrato cucinato bene, quindi siamo un po' fregati da questo punto di vista. Però direi che passo dopo passo possiamo farcela, non dobbiamo rinunciare alla tradizione, dobbiamo sufficientemente andare a declinarla in quello che è un progetto di salute benessere di lungo termine. Con questo direi che possiamo concludere questa nostra nota sulle proteine, le proteine in polvere e io, dal canto mio, vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata. Anche da parte mia, un saluto a tutti e ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!